Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Dai mucca mandami un altro invito, mandami un altro che ti chicco Amici, dividi invito Sere, aiuto Sere, aiuto Ragazzi, ma avete dei problemi Allora, Diego, fuori dal cazzo, dai Il primo che rompe il cazzo, dai, Diego, dove cazzo è il clan? Xio 27 su 30, dai, allora, dov'è? Dove cazzo sono? Allora, questo, fuori dal cazzo, is game, non mi piace Rifiuta Qua, se, se, 40 white Nettuno Eh Perché sta buildando? Che vuol dire sta buildando? Oh! Xiu drone! Perché sta buildando quello? Xiu? Non lo so Che cazzo? Ma non ci avevo fatto caso Se entra nel tornado si sbloccano le build, eh Che cazzo dici, Mike? Vado subito nel tornado? Allora Aspetta, c'è Aspetta, c'è Allora, io non Non Cioè, no Non fa... Come faccio a... Madonna Quanto si gioca pro star, figa Aspetta Cioè, come faccio a fare... Fermi! Non me lo fa neanche funzionare! Non me lo fa neanche funzionare! Non posso fare nulla! Ho portato ogni giorno in cui è uscito E per due o tre giorni In live Poi l'ho smesso Sì? Perché? Eh, perché non... Non tirava Ok E poi all'inizio inizio... Cosa ne tu? Lo sai cosa andava davvero tanto tantissimo? Che la gente ha preso... Tantissima gente ha preso a partner, pure senza gamma Il Clash of Clans? No! No! Non lo vedo più! Morto! Manca l'ultimo è qua! Vai, andate a fare in culo! Sucazzami il cazzo! Voi le vostre madri E quelle puttane di merda delle vostre nonne Che hanno messo quelle strutte delle vostre madri! Cosa stai dicendo? Andiamo! Veramente la gente gioca in endgame con l'impulso È strano però, eh? Ma veramente? Peccato, mi hanno massacrato in un mezzo secondo 182 Peccato, dopo 6 abbiamo fatto Io, ragazzi, vi giuro, sono sconcertato Sono davvero sconcertato Super rare Bello questo 100 monetine! Club! Allora Vediamo che stavo dicendo Quelli sotto Io non mi ricordo bene come club Allora 40.000 38 37 30.000 Profilo Ok Il dragone qua Il dinosauro Che brindano bocali di birra 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 42.000 su buoni dentro Messo 39.000 O Se giocano da console Cambiare la console Perché quell'email Verrà permabannato da fortnite Ah Carino Quindi hanno perso un secco di soldi quelli ragazzi Adesso non so se siano account creati apposta per dar fastidio O account normali Questi due account verranno 100-100 permabannati Avevano le skin Quindi in conseguenza 100-100 da permabann questa Buono Se ci fosse Magari con una birretta Ciao Ricky One Oh Roloro Ricchione 1303 È dei nostri Per favore Non me c'è un cazzo raga Non me c'è un cazzo Non me c'è un cazzo 54 God Voglio far salire il clan alto in Italia raga Porco cazzo 65 Ok Uned O 81.000 Siamo risaliti un po' in Italia Classifiche Locale Il club Siamo cento ventesimi raga Siamo settimi Abbiamo perso probabilmente delle posizioni Il primo mi ha dato quattro secondi Croia merda Il primo mi ha dato quattro secondi 69 Dio Ciao chiuso puoi salutare la 1m info di Perugia Che stiamo guardando da lì Studiate stronzi Top 5 no Andiamo Nooo 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 Dai 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 Il che c'è quello con l'edicazia e oltre a questo ragazzi abbiamo un sacco di roba da fare su salva al mondo quindi saluto subito un po' di ragazzi che stanno già guardando la live Buongiorno Buongiorno Ricky Buongiorno Pollo07 Buongiorno Ilenia Cangurosa Buongiorno Emuto Ciciretti Nick Boss Buongiorno anche Ilenia Ricky good morning Vale Andrea Buongiorno Arellino Crincol Good morning De Tommy Pollo Eh, no, questo è lo stress che mi provochi a meno No, biffi, non c'è nessun problema Perché questo veicolo e anche il furgone Sono stati intestati a un mio parente Quindi Che non è il mio cognome Perché è da parte di mamma Questo appunto per evitare Quello che hai appena detto Il fatto che qualcuno possa magari Riprendere la targa e risalire Con i dati a dove viviamo A nome, cognome e informazioni private Nooo Nooo Nooooo Nooo For pain and for glory E for pain and for glory Cazzo di mangiatacos di merda 5 Gli ho fatto veramente Io ho 8 hp Ok, cercatemi subito Gura, buon twitch, sei italiano Uno non l'ho ammazzato Eh, peccato che non te lo fai unacchillato Cercatemi subito, sei italiano ragazzi No, ho finito io, ho finito io vai al benzinaio che stanno già guardando la live buongiorno red station buongiorno vada chino buongiorno brt buongiorno che signor pollo un secondo che stavo guardando una cosa buongiorno dei rom buongiorno anche a il giuca matti jasmine zanark l'ore pro buongiorno anche a te caro buongiorno anche a just pondix urrax la flame buongiorno daron a stasera orca vacca il daron viene questa sera